allora ragazzi è successa una cosa spaventosa e brutta nel senso che ho detto a nicola perché invece di fare solo gameplay oggi non facciamo anche che ci guardiamo un nostro video con i sottotitoli generati da youtube e con gli automatici è successa una cosa brutta poi vi facciamo vedere magari abbiamo preso un video a caso in questo caso è metroid perché abbiamo dovuto fare un video corto e uno dei più corti è proprio metroid altrimenti i nostri video venti minuti un'ora 16 ore venire inutile farli vediamo cosa ci propone youtube però poi dopo vi facciamo vedere una chicca su un altro video se volete vedere questo video c'è il link in descrizione a voi lo linkiamo adesso qua sotto guarda guarda che lo stiamo linkando basta via il primo gioco intendo chi fa la propria lista non è lui benzi un ali siamo sarà signori e signori ragazzi che negli anni ha sconfitto invece di malvagia vissuto fin di stazione l'università pure Samos va all'università aspetta Samos va all'università la storia sempre è stata vincente ed infissi giustamente gli infissi le finestre abbiamo messo le finestre progresso tecnologico quanti cosa stiera che pericoloso il fatto offendo siete delle merde giocasse esperienze emozionante è divertente è a posto di chi da passi scusa ho detto esperienza arricchita di chi t'ha dato patto sul sul sempre perfettamente linea con gli avvenimenti tremendamente quando quando tutto ciò in un sito di future a cui sono seguiti altri giochi della serie ok qui qua ci siamo ancora circa purtroppo nelle mie delle eliminazioni metronie dell'eccezione fatta per pranzo di natale si spera per pranzo di purtroppo le mie oggi il pranzo di oggi vabbè di tutti i messaggi lasciati l'ultimo in ordine di storia proprio futuro è uscito ma io non dico queste cose il gameboy è diventato guerra pens vabbè c'è una guerra in inghilterra non lo sapevamo le ultime fasi di quel titolo si poteva questa must fuggire dall'impatto si è diventato spagnolo lui non lo continua a leggere è spagnolo inglese proprio misto tutto qua se vedete di quel poliglotti si cerca spaziale nel pineto ma dove si è mai visto un metrò ed è diventato nel pineto ma non lo so essere troppo foto dopo aver con uno dei temi di prassi tx ritrovato il suo superiore a malcovich alla è un modo di essere sembra una serie dei frasi dei bigliettini nei biscotti della fortuna cinesi una volta mi successo ero a lucca 2014 r u cute tipo le consonanti accentate apri il biglietto cioè il biscotto mangio il biscotto cioè il biglietto il prossimo anno sar quello fortunato c'era la r accentata sar con un errore di staff era una nota simile va bene va bene queste le ha prese attenzione cottura accelerata di metroid cottura master chef oggi prepariamo un metroid alla salsa di pomodoro i predatori naturali ho detto degli x mandami loro che mi va mandami loro che mi va all'aria passa most adesso ricercati non mi trovi a ricercati non mi cercati tutto ciò accadeva nel 2003 e capite bene che dopo quasi 13 anni ogni tanto ci azzecca benissimo poi inizia a diventare autistico i fanci sono un po' stanchi sono un po' stanchi questo video Tito Tito Faraci di mediocre e conci i bimbi con la Y ciao Dario conci con i bimbi dentro ciao Dario i bimbi mi pare che inizia così mi pare che inizia così inizia così terminato trend sarebbe pronto danni si è rotto e la storia sarebbe degno di un gioco un gioco con metroid e la storia sarebbe degno di un gioco amate metroid fatelo per forza il motivo per cui non abbiamo ancora avuto modo di gustarcelo mostacciano mostacciano che cos'è mostacciano non è che magari qualcuno di voi abita a mostaccio perché magari è un mostacciano abita a mostaccio è un abitante di mostaccio vabbè perché la Nintendo giudicava il prodotto finito troppo simile a più a? Clusone Clusone Roberto Clusone il problema è che abbiamo con l'avvento della Wii su cui abbiamo vinto Wii va bene ci sta ci sta ci sta ha preso l'elettore Emma aspetta trilogia Emma ci sta ci sta quello che è peggio è Emma Podere più recente ma quando mai ma quando mai mi sento che sta arrivando deriva alle tre ci sta alle tre Nintendo no ti ho detto quando la prende proprio vabbè utpl utpl del cazzo e dove hot che significa hot che significa dove oltre a uccidere i mostri brutti e poligonali si può giocare a calcio arbo arbo il salmone il salmone il salmone sparando la palla con il salmone ragazzi sparando una palla con il salmone questa è la miniatura del video la giugna che cazzo di video hanno fatto c'è un tizio che c'ha la pistola c'è una palla da calcio davanti e ci spara il salmone del ristorante giappone la palla con il salmone specificamente quello del ristorante giappone si perché penso a quello a calcio sparando una palla con il cannone è palesia che questo gioco in uscita nel 2016 no non è possibile sono smento alle vendite dal mojok ma che ho parlato mai guarda questi tizzi qua la polizia nintendo sa anche dei soliti ignoti è il film che è una merda al punto di fuga addirittura la petizione per annullare l'uscita del gioco metodo un po' esagerato ma ci sta fascista e ce ne ha cose con le armi l'arma migliore per far capire fascista ne fa stoffe però di david acquistare e vedere sunforce vai vai sperate che ti aspetto numerosi di quel posto tutte perse te in culo sono andate le speranze le speranze sono perse ha deciso infatti nel 2016 la nintendo rilascia la nuova console e neanche la nuova console nx pare che questa abbia ottime qualità hardware e software e ora pare che stanno dicendo che non le ha si e che con il suo prodotto sul mercato verranno lanciati anche diversi giochi di punta quindi se è vero che la nintendo ha bloccato l'uscita del prossimo metronico perché somigliava troppo a fusion e che non l'abbiamo né visto né che non l'ha mai visto nel sentito ma la miglia publie di esso ma deve essere la volta buona che qualcosa di concreto venga fuori ovviamente stiamo attenti a non fare pretese è troppo illusivo testo pensioni sopra pretese testo pensioni sembra una canzone dello stato sociale lo so se quelli che scrivono tipo eh t'ho vista che stavi su un albero e ho sognato la droga nel sesso del cazzo in culo e la gente condivide sta merda questi mettono parole a caso e la gente condivide sta merda ma veramente andiamo avanti anche perché non è detto che quando e soprattutto se ci sarà un prossimo metroid sarà un lavoro lavoro assunto pensate all'amiibo è la possibilità pensatemi amico pensatemi amico è un meme si fa proprio così pensatemi amico è la possibilità che si vede di usare in game impegni della costiera che cazzo ha detto impegni della costiera se la funzione c'è la guardia costiera non sarà solo in realtà l'altra funzione importante è fare un gioco in 2D o in BD once D once D a mio parere la città di aio Bari in Sardegna aio Bari aio Bari c'è la forma della Sardegna e al centro della Sardegna c'è un sardo a Bari che arriva a Bari e fa aio Bari ci metto Aldo Giovanni e Giacomo che dice quando facevano i sardi vabbè patagarro patagaio ancora con socclusone ma che cazzo è lui vive con elementi 3D come ormai ci abituati Super Mario questo permetterebbe di portare il gioco sia su 3DS vista le ridotte capacità di elaborazione sia su NX su cui magari ci sarà una grafica più accattivante giusto potrebbe sembrare un paradosso quanto di portare un gioco nuovo pur di portare vabbè nuova e potente sia su una pizza pazza sia su una pizza pazza sia su una pizza pazza io ho detto tipo su una console boh vecchia più datata più datata una console più datata pizza pazza condivido principalmente alle parole del producer di Metroid Yoshio Sakamoto desidero Yoshio Sakamoto io ci ho fatto molto desidero desidero sodica Metroid si che vuoi che vuoi che vuoi LG ci riserverà abbiamo cambiato discorso parliamo di LG parliamo di LG nel caso class hero class action degli eroi tipo l'RPG LG sta sviluppando un RPG basato su Metroid e sulla pizza pazza di un sardo che va a varie e fa aio qual è l'altra cosa di prima pensatemi amico come questo vi piacciono e se ne volete altri vi ringrazio per la visione free software fatemi sapere queste cose non esistono se vi interessa ciao ciao non esiste porca puttana no ragazzi no vi facciamo vedere quello che abbiamo visto noi velocemente però si si perché tanto il video è già lunghino di suo adesso saluto dagli informatici ci siamo tornati insieme stavolta dingo lussuria Sadbury Sadbury si istat purtroppo io so giocare in noccio in sesso con cioccolato uova sul lato salvataggio siamo in area di pasqua Nicola è area pasqua come potete vedere lui con così romantico formato a un account google translate cookaround è mentre il nostro amico Simone si ho paura di uscire portali anche se a te in single player è giusto però il pc è una merda però il pc è donne quindi le donne sono una merda per google pc e donne sono una merda avevo perso dopo 4 minuti di predare il giorno dello sport c'era questa giornata dello sport la giornata internazionale dello sport e io stavo giocando Isaac poi ho detto madonna mi picce le donne fanno schifo e ho perso per ricordarmi la giornata dello sport sesto posto assoluto la faccina la faccina come vuoi a fare la faccina perché 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 c'è la faccina come si traduce da linguaggio vocale a faccina quella poi andiamo avanti leggete voi ragazzi perché tanto qua è diventato solo contro la tv del grillo il movimento 5 stelle non lo votiamo vai che tra l'altro grillo non va mai in tv quindi non ha nemmeno senso oppure questo video l'ultimo re all'ora ti amo in cotto ti amo in cotto visto così si può fare non sui tasti stiamo parlando del sesso cioè ti amo sul cotto si può fare così ora però c'è il tutto c'è il tutto riscopriamo manuale 6,2 stagione del nuovo testamento protezioni ragazzi protezioni per lo ti ricordo che dovresti semplicemente muoverti e sparare protezioni protezioni per lo stress del lavoro il lavoro dipendente considerando ragazzi prima non avete idea dei pianti che ci siamo fatti o usi due analogici o usi l'analogico che vuol dire può essere ovo 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 non sopporto quello abbiamo detto penso solo a zatte del salvataggio l'amore che io l'ho visto perché io l'ho visto l'amore no e nemmeno io ecco ragazzi però il video così si dilunga troppo se volete vedere altre cagate tipo questa noi le facciamo perché magari scegliete voi il video dove vorreste vedere i sottotitoli così reagiamo e basta perché porca puttana succedono certe cose nella vita e bisogna cogliere i momenti che bello guardatevi altri gameplay che questo gameplay non era però magari se potete guardarli guardateli e mettete mi piace sulla nostra pagina facebook seguiteci lì su facebook ovviamente l'ho appena detto ritardato di merda ovo su twitter e su twitch il notcio e il sesso yes quindi facebook twitter twitch ci seguite qui vi iscrivete per forza pensate mi amico basta e meme e niente ci vediamo alla prossima ciao